Celebrazione eucaristica nella cattedrale di Trivento a tre anni dalla scomparsa di Don Antonino Scarano, insegnante e anche vicerettore del seminario Vescovile. Ricordo di Monsignor Claudio Palumbo. Don Antonino Scarano è venuto a mancare tre anni fa, è stato promotore di diverse opere di culto, case canoniche, chiese e quant'altro. Chi è stato Don Antonino Scarano? Io in una parola alla luce dell'anno di San Giuseppe e di questo mese di marzo che è appena cominciato ed è dedicato a San Giuseppe, vorrei definire Don Antonino proprio un padre realizzato nel senso pieno del termine. D'altra parte il fatto che a tre anni di distanza dalla sua morte la gente lo ricorda ancora con affetto, con amore e la presenza anche questa sera in cattedrale lo ha dimostrato, è un certificato proprio di riscontro di un sacerdozio bello che si è speso proprio interamente per la gloria di Dio e per la salvezza delle anime. Circa 50 anni a servizio della diocesi di Trivento tra Molise e Abruzzo. Qual è il significato adesso? Dunque Don Antonino aveva un spiccato, vorrei quasi dire anche innato senso, del sociale e ha potuto maturare questa dote alla luce della sua fede vissuta con grande semplicità ma con profonda convinzione e dedizione. Per cui tutto l'impegno che attraverso il servizio dell'ufficio amministrativo, dell'economato che i Vescovi, me compreso, gli hanno sempre affidato, lui lo ha saputo coniugare alla luce di queste grandi ali dove non ha lasciato niente di abbandonato. Ogni piccola struttura, anche la più, diciamo, lontana dei centri abitati ma appartenente alla diocesi, Don Antonino ha cercato di recuperarla perché la parrocchia, le parrocchie potessero vivere a pieno momenti di aggregazione. E questo è stato, diciamo, molto propizio e fecondo perché poi non sono state solo le parrocchie della diocesi a beneficare di questo, ma anche tanti gruppi che nel corso degli anni sono venuti a Trivento, si sono trovati bene e continuano ancora a chiedere di poter essere ospitati, gustando anche il sapore della nostra gente molisana.